Si è conclusa con grande successo la terza edizione del Festival e premio internazionale degli artisti di strada, la manifestazione dedicata all'arte di strada. 57 artisti che hanno letteralmente incantato gli spettatori, con varie forme di spettacolo a cielo aperto. Teatro, musica, giocoleria, mimica, magia, danza, acrobazie e tanto altro, così decretando il grande successo della due giorni del Festival. L'iniziativa è dovuta in primo luogo al giusto mix di attrazioni presenti per il pubblico, oltre alle tantissime performance realizzate dagli artisti di strada. Infatti, largo spazio è stato lasciato anche alla gastronomia locale, affidato agli attività di ristorazione che hanno scelto di aderire all'iniziativa, dislocati lungo il percorso della manifestazione, mettendo a disposizione di tutti i buongostai le specialità tipiche del territorio occidentano e da spettacoli di varia natura che hanno aglietato i presenti. La risposta del pubblico è stata calorosa e sorprendente. Corso Matarazzo, Piazza Lucia e Lungomare Perrotti si sono trasformati in una festa animata da adulti e bambini. Parole di soddisfazione per la grande riuscita del Festival da parte del Vice Sindaco e Assessore al Turismo e Cultura di Castellabate, Luisa Maiuri. Un'esperienza positiva ed innovativa per Castellabate, che ha dato il via alla nostra estate ricca di eventi. Ottima riuscita del Festival per la grande affluenza di pubblico, che ha partecipato attivamente e con entusiasmo.